buono dal barcelona andiamo al liverpool silenzio voglio giocare voglio battere queste merda come è lenta la partita già 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 non è buona una partita è lenta già ma finchè non abbiamo unire la palla poi dopo vedi che ce l'ho ce l'ho buono via e la butto subito via mi apertura al volo lo sapevo lo sapevo lo sapevo lo sapevo ma rovinato ora che cazzo faccio non fa venire un'idea tu sai c'è you are minghio senza commento è brutto ah non ce l'hai commento? no ho tolto per sincronizzare tutto yeah come i brasiliani no no vai vai no no con ronaldo con ronaldo con ronaldo ronaldo mi sembra che erano uff fenomeno salà vinaldo avvio cristiano ronaldo vai vai eccolo 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 avanti alla tec eh giochiamo ancora con questa juve perchè fa poco venderanno i giocatori dai eccolo eccolo ah mi sta palla dammi guarda la guarda neanche fa niente niente ahhh si passi passi intercettazione nel medio del camion nabikeita la vena vena il ronaldo dell'anno scorso c'è il ronaldo di quest'anno su fifa veramente oh ma come guarda in serie a ha fatto veramente bene ha fatto 31 gol meia sdeccione ah non ti dimenticare che sempre 35 anni c'è anche appunto appunto ma gli altri se lo dimentichi non io le statistiche qua dalla velocità l'hanno abbassato brutale mmm guarda alla guarda 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 la prende la prende è mia dribbla tutto devi fare tutto si tutto eh niente non ha funzionato la faccio dopo lo faccio dopo lo faccio dopo si è buono così così mi piace no che controllo di palla senza commento sempre silenzio stampa il quattro no, vado fuori gioco non scatta incaichellini che è la carriola ecco non è successo niente, tu sei dove cadere il palazzo dietro buonissimo vai corri no, si è possibile non è che hai tolto l'albitro invece del commento tu no ma che c'entra gli vuoi sei online è scepezi comici toto toto, guardalo, eccola, tu vai, tu ah io sono vivo, no, perché? perché è buono, perché è buono e so già due che ne fai e so già due che ne fai e so già due che ne fai che hanno fatto contro di noi stai costruendo la rete avanti forza io questa me la porto, sta rete me la porto me la porto calma 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 che ci pensi calma 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 mi fa bene giocare senza commento forse è meglio se non senti niente forse era questo il problema il problema se vogliamo chiamarlo problema oh, ancora non l'abbiamo in questa partita quindi stiamo tranquilli è una partita lunga, sono loro che forse ne vanno via se ne vanno via se ne vanno ancora uno, queste ne vanno via sai come secondo tempo ma qua come se cerchiamo a secondo tempo eeeh il palapapero appero avanti avanti gianetta un'altra dichetta mi ha dato un po' eeeh tagliate me ne vede che non è aria oggi la giocata fu il vinto ma ti canni tu, tu sei scomci oh, vado se ci dici i canni tuf bastardi forse se ne vanno beh, eccolo, eccolo, eccolo eeeh rosso eeeh fuori le coglioni niente ancora niente ancora basta già sabio che i acconteser tiago pego forte era un tocco brasilero era un tocco brasilero pjanic quadrato perdeu la bola questa dividida come lo spiega fuori gioco non lo è 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 guarda quello guarda quello c'ha provato non l'ha fatto sai che devono fare l'incontro per la minga ce l'ho fatto fare vabbè ho dato qualche chance eccolo 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 eeeh 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 ho ho il caffè ho fatto ho fatto no questo è troppo ho il mio caffè che sta arrivando dai 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 manca la difesa c'hanno più questo era troppo questo dirà patrò messo per l'articolo chiesa no questa era troppo no da quella si vabbè di testa di testa ho fatto pure il padronetto con l1 e di testa allora tu ma che faccia dai che partita dai era ora dai oh di qualcosa così lo salviamo can do bastardi basta tutta la partita mi fanno riusci dai can do bastardi